Il mazzo, giusto? Sicuramente no? È ovvio non di quadri, ma di cuori, giusto? Proviamo, eh? Se non riesce ce l'abbiamo provato, giusto? Vuole cambiare? La carta mi fa bene? La foto, vengo a me. Sì, una? Ok, io qui ho il mazzo di carte, guardi lei farà miracolo, attenzione, mi dica un numero, un numero piccolo, un numero? Tre. Tre, guardi, guardi, uno, due, tre carte via, ok? Se dopo tre carte c'è il sette di cuori, è un miracolo, è un miracolo, è un miracolo, sì o no? Grazie.